Abbiamo avuto già più di un contatto, ce ne saranno anche altri nei prossimi giorni perché vogliamo avere chiarezza, vogliamo avere una rendicontazione minuziosa dell'attività che viene fatta all'interno, del numero, delle attività che vengono svolte. Ci ha anche assicurato il prefetto un impegno per aiutarci e nella richiesta per semplificare le operazioni, per accertare lo status delle persone che vengono accolte quindi ci saranno molti incontri sperando di arrivare nei tempi brevissimi a una chiarezza di questa situazione. Questo è stato proprio il contenuto del nostro incontro e su questo c'è una ferma identità di visione cioè il fatto di lavorare per privilegiare situazioni di accoglienza diffusa e mi ha confermato il prefetto che sta girando la provincia per trovare delle soluzioni adeguate a questo sistema di accoglienza che è visto da tutti come assolutamente migliore. No all'hub regionale? Assolutamente, su questo è condiviso, appunto nel contatto che avevo avuto col prefetto abbiamo chiarito questo aspetto sul quale anche il prefetto è assolutamente d'accordo. Diciamo che come abbiamo sempre detto la Serena è una soluzione, non è la soluzione quindi sicuramente è un immobile che dà degli standard magari anche migliori rispetto ad altri però appunto non può essere l'unico immobile utilizzato e dobbiamo lavorare per avere delle soluzioni più adeguate e andare tutti quanti insieme verso il sistema dell'accoglienza diffusa.